Quarto stop consecutivo per il CLN Cusmolise che al pala Unimol senza l'infortunato Barrichello nella prima di ritorno cede per 5-3 al Mantua al termine di una contesa in cui i rosso-blui e i sanginari gettano anche il cuore oltre l'ostacolo, recuperando nel primo tempo da uno 0-2 iniziale figlio delle reti di Cabeza e di Donin, grazie alle realizzazioni di Denisco con Nathan che impatta e Capitan Di Stefano che sigla il 3-2 con cui si chiude la prima frazione a favore del team ospitante. Nella ripresa però i rosso-blui si fanno prendere alle antiche problematiche e vedono i virgiliani andare a prendersi tutti e tre i punti in palio grazie alla realizzazione di Cullani e ancora di Donin e così completa la doppietta personale. Ora per i rosso-blui la sosta natalizia di ritorno in campo col nuovo anno che vedrà il confronto sul terreno di gioco della Lazio il prossimo 7 gennaio per la seconda di ritorno con attualmente la distanza dai playoff di ben 5 lunghezze da provare ad accorciare. Grazie a tutti! Grazie per la visione!